identificato il primo caso lombardo dengue la malattia portata dalla zanzara aedes comunemente nota come tiger mosquito direzione welfare della regione lombarda aggiungendo che i dipartimenti di prevenzione della ats milano e valpadana hanno già chiamato straordinarie azioni disinfestazione nelle strette vicinanze dei luoghi frequentati dal paziente pochi giorni fa si era verificato un possibile caso di dengue a monza gli stessi ats stanno preparando una nota allerta ai medici e agli ospedali di base con il pronto soccorso astlo di crema per riconoscere i sintomi della dengue e attivare percorsi diagnostici specifici il caso è stato anche segnalato al ministero della salute e o l'istituto superiore di sanità per i cittadini ricorda la direzione del benessere è necessario proteggerti dalle punture di zanzare in particolare per le persone anziane o più a rischio per gli effetti della patologia pertanto è consigliabile utilizzare repellenti e insetticidi anti zanzare in ambienti chiusi suggerimenti per i cittadini non mancano le raccomandazioni limitare diffusione zanzare coprire tutti i contenitori raccolta acqua piovana irrigazione tombini puliti pozzi almeno due volte l'anno le reti da zanzare a maglia prevenire deposizione uova trattare i tombini le aree drenaggio stagnazione con prodotti larvicidi ogni 15 giorni nella stagione piogge controllare pulizia grondaie introdurre prodotti larvo nei vasi fiori secchi non stagnare acqua stagnata nei piattini lavare con cura l'affondamento degli animali qual è la dengue è una malattia trasmessa dalle zanzare causata da un flavivirus i sintomi principali sono febbre elevata mal di testa eruzione della pelle e forte dolore alle gambe la dengue provoca circa 20.000 ogni anno con 50.000 e 100 milioni di casi la trasmissione avviene attraverso le zanzare a edes e il virus circola da 2 a 7 giorni nel sangue delle persone infette dura fino a 15 giorni la febbre dura più o meno da 2 a 4 giorni i casi di luce guariscono in pochi giorni mentre i più gravi richiedono qualche settimana per trattare il delge che agisci sui sintomi usando il paracetamolo ma non sui fan